Cosa stai dicendo? Il tuo messaggio è sovversivo, ti seguivo ma adesso ho capito che sei pericoloso. Grazie mille per questo tuo commento che mi permette di sottopormi completamente al giudizio di chiunque avrà la bontà di guardare questo video. E lo faccio ponendovi questa domanda. Secondo voi chi è più sovversivo e pericoloso? Io che ho fatto un video dove parlo dei gravissimi rischi che secondo me correrebbe la nostra società se venisse improvvisamente tolta l'unica fonte di sostentamento a milioni di persone e famiglie. Banalmente quindi l'esplosione della micro criminalità e della macro criminalità di cui i ricchi e i politici non sono quasi mai vittime. Oppure è più pericoloso e sovversivo chi sostiene che il reddito di cittadinanza tolga soldi dalle tasche della gente onesta perché lo prendono soltanto i fannulloni che non hanno voglia di lavorare. E che quindi il reddito di cittadinanza vada immediatamente abolito in modo che tutti questi scansafatiche possano tornare al lavoro. Ecco se volete attendo i vostri commenti che come sempre leggerò con grande attenzione e di cui vi ringrazio sinceramente.